Ma a chi salterà in mente di venirmi a cercare qui? Consigliabile. Forse se avessi ascoltato i buoni consigli ora non sarei qui. Ma è proprio questo il mio difetto peggiore. Io mi so dar ottimi consigli, ma poi seguirli mai non so. E per questo nei pasticci spesso son. Rifletti è un ottimo consiglio, però assai curiosa son. E mi piacciono avventure novità. Ho invocato il mio cammino senza alcuna riflessione, senza pensare che tutto poi si paga un giorno. Così, così. Io mi so tal... ottimi consigli, ma poi seguirli mai non so. Chissà quando la leggiude imparerò. Rero!